Buongiorno, ci troviamo alla vittoria di Via Nazionale, è venerdì 2 marzo 2018, ultimo allenamento di questa settimana per qua, ci sono i nostri allievi di mister Gabriele di Felice, ecco i due mister, c'è mister Giovanni e mister Gabriele, stanno facendo una partitella in famiglia, il campo è una pozzanga, fango, si è sciolta la neve da pochi giorni, fino alle 12 e mezza c'era anche la nebbia, la temperatura è salita un po', siamo sui 9 e 10 gradi, mentre fino a ieri c'era quasi 1 o 2 gradi, ecco mister, da quest'altro lato ci sono i giovanissimi di mister Giovanni, pure loro si stanno allenando, giocheranno lunedì in casa e anche gli allievi giocheranno domenica alle ore 11 contro la Valle Almentino, sarà un big match, una gara importante, è la penultima gara di campionato, dopo se ne formerà un altro campionato composto da 10 squadre, le prime 5 di questo girone di Chieti e altre 5 del girone di Vasto e si formerà un campionato, prima dell'inizio di questo secondo campionato ci saranno 2-3 domeniche di riposo e dopo si riprenderà, inizierà un nuovo campionato, inizierà un nuovo campionato, a quest'altro lato c'è i ragazzi che sta tenendo il nostro mister Giovanni. signore e signori, alla prossima ripresa, buona giornata a tutti qua, inizierà un nuovo dal Villa della Vittoria di Castelfrentano, alla prossima.